E' questo il Marocco. E' visto? Non c'è i verdi, c'è solo soli, e bella panorama, e paesaggi. E' visto che bello? E' caldo, 36 gradi. Però oggi un po' infrescato. E' così. E' la città di Fes, là lontano. E' così. Questa stradina, senza asfalto, va fino a quel paesino là. E' quel paesino là. E' così, vedi il paesaggio. La montagna. E' così. E' questo un paesino. Un paesino, come si chiama? Sidi di Harazam. Questo è il paesino. E adesso dove abito io? E' qui. In questa casa qui. E' questa l'antenna del telefono. Così. E' la gente che va e viene a vedere questo panorama. Vedi la panorama. E' lontano. Vedi il paesaggio. E' il bello che c'è qua. E' il caldo. E' tutta la verdura, frutta, verdura, tutta fresca. Lo prendano da qua. Lo prendano da qua. E' tutto bello. Non è come il Gia Marina. Tutto è verde. E' freddo. E invece qua. Non c'è il verde. C'è un po' di palme. E' poi. E' poi. Così. Vedi che pianta. Questa è qua. Se cresce senza acqua. E' bello. E' il paesaggio così. Bello, bello. Ok. Grazie.